Lotto numero 387 della 120esima Asta della Casa d'Aste Sant'Agostino. Vi sto dando il numero perché così potete andare a vedere il nostro sito www.santagostinoaste.it per vedere proprio questo quadro con una ottima definizione, potrete ingrandire la fotografia fino all'imbero simile e anche con la scheda tecnica. Quindi andate a vedere il nostro sito www.santagostinoaste.it e guardate proprio il catalogo online, l'intero catalogo. Vi ricordo 120esima Asta, oltre 1000 lotti in Asta, dipinti dell'800, 900 contemporanei, arredi, argenti, gioielli e orologi. Bene, vi sto presentando questo quadro, questo importante quadro di uno dei maggiori esponenti della transavanguardia italiana e in questo caso parliamo di Sandro Chia. Il titolo è Angelo, le dimensioni sono 100x63 con la cornice in misura 125x95. Vi sto dando le misure della cornice perché? Generalmente non si fa ovviamente quando si danno le misure di un quadro, perché in questo caso la cornice è stata fatta proprio dall'artista stesso, perché per Sandro Chia la cornice è parte dell'arte, è il luogo migliore dove mettere l'arte, proprio la sua arte, quindi si crea la cornice che è arte stessa all'interno dell'arte del quadro. Quindi ripetiamo le dimensioni con cornice, 125x95. All'autentica dell'artista su fotografia questo quadro, l'opera è firmata in basso a destra. La richiesta è di 7.000 euro per il lotto numero 387 Sandro Chia. Passiamo al successivo.